ci hanno offeso per circa un anno un anno e mezzo no questo non è un video sul calcio un video su nuova proprietà da tanto non lo facevo me lo chiedete in continuazione giuse giuse e poi veriferi un giorno potrete fare tranquillamente una verifica di quello che vi sto dicendo oggi e di quello che vi abbiamo detto anche l'anno scorso noi venivamo offesi perché parlavano tutti gli americani non esiste nessun americano nessun saudita l'inter sarà acquisita dagli americani se l'inter cambia proprietà saranno gli americani è talmente bello cioè è ora lì ora riguardi con un lato capito quasi di apprezzamento per come quando guardi un bambino e gioa ora te li ritrovi che parlano del baregni dell'invescorp però sono lì che sperano e non ci siano i sauditi per poterci smentire questi e parlano c'è loro ora stanno parlando del baregni come se il baregni capito fosse lituania questi non sanno forse che il baregni il baregni è il maggiordomo dell'arabbia saudita e ci sono tanti di voi che lavorano con l'arabbia saudita smentitemi quando volete giornalisti non lo so che ti posso dire gente che ha a che fare comunque con i sauditi per il lavoro con gli arabi smentitemi il baregni è il maggiordomo dell'arabbia saudita quando questi parlavano di americani ora tutti soddisfatti parlano del baregni forse non sanno una cosa che il baregni è collegato con un ponte si chiama ponte refad addirittura questo ponte del baregni che collega l'arabbia saudita lungo venticinque chilometri praticamente tra il baregni e l'arabbia saudita ci sono venticinque chilometri questo punto è stato intitolato al quinto re dell'arabbia saudita refad si chiama il ponte io ho abitato a rimini per lavoro tre anni tanti anni fa la distanza tra il baregni e l'arabbia saudita è come tra rimini e san marino non come tra caltanissetta e san marino rimini san marino io a san marino andavo spesso a pranzo perché c'era un ristorante mi piaceva ci mettevo mezz'ora di macchina quindi questi stanno parlando del baregne come se stessero parlando della lituania per l'ennesima volta non ci hanno capito nulla ecco perché tutto il minestrone di tutto sport ecco perché anche il minestrone di tutto sport tra l'altro voglio smentire subito una cosa e me ne prendo tutte le responsabilità non esiste nessun fondo a dia a dia a budabi investment authority a di a non esiste nessun fondo a dia in questa operazione in questa operazione ci sono diciamo anche dei fondi sovrani c'è qualche fondo degli emirati arabi ma l'operazione è guidata ed il carro la ruota del carro è tirata da investimenti dei sauditi quante volte mi avete chiesto giuse pif pif io il nome pif non l'ho più fatto da sette otto mesi a questa parte ho sempre detto sauditi e ci sono le prove primo video nove mesi fa quando dico ragazzi bisogna guardare più sauditi aziende veicolo aziende vena perché loro potrebbero costituire anche un'azienda kss tipo lì topolino magari del baren ma gli investimenti comunque sono sauditi sono loro e noi abbiamo modo poi di dimostrarlo quindi baren arabia saudita 25 km di distanza perché potrebbero perché invest corp invest corp è un raccoglitore di soldi poi questo termine ovviamente qualcuno se ne è già appropriato perché vogliono parlare di finanza ma questi non sanno usare nemmeno un'alcolatrice e ora trovi canali che parlano di finanza dopo che dei signori professionisti dei professionisti illustri come qualcuno li ha definiti hanno hanno anticipato i new york times di un anno effenberg alessandro g l'avvocato pier lo stesso avvocato michele quando c'era che saluto tutti questi ragazzi poi dopo new york times ti dice cose che qui in questo canale si dicevano un anno fa avranno un po di credibilità sono dei professionisti è il loro lavoro questo studiare aziende conte conte conti e quant'altro bilanci è perché qui quando la gente festeggiava e parlava di rifinanziamento del prestito quando parlavano di americani soci di minoranza qua veniva descritta una situazione già un anno fa che poi dopo ormai è davanti agli occhi di tutti ma di cosa vogliamo ragionare di cosa vogliamo ragionare operazione guidata dai sauditi operazione comunque dove ci sono eh loro che comandano loro che mettono soldi e possono costituire un'azienda mena o possono usare un veicolo potrebbero per assurdo usare anche investcorp come veicolo perché investcorp da sola compra una discoteca non compra non compra una squadra di cance perché sono stati loro a dire abbiamo 600 milioni e basta per l'inter cinque sei mesi fa dobbiamo raccogliere soldi vogliamo fare cordata sono le parole di investcorp non non possono loro da soli loro raccolgono i soldi potrebbero tranquillamente anche faccio un esempio ma non penso essere un veicolo dei sauditi raccogliere i soldi i sauditi visto i problemi con l'uefa potrebbero usare loro come front ed acquisire l'inter ma perché tutti dicono fondo saudita perché tutti dicono l'arabia saudita vuole l'inter perché è vero poi fanno un minestrone bahrain arabia saudita ma stiamo parlando comunque del maggiordomo dell'arabia saudita questo non te l'ha detto nessuno te lo dico io stiamo parlando del bahrain del maggiordomo dell'arabia saudita collegato da un ponte di venticinque chilometri intitolato al quinto re dell'arabia saudita ponte re fad vai a vedere ti metto la foto io ve lo ripeto per l'ennesima volta a me non mi viene rabbia per tutte le offese ci avete rivolto a me mi fate pena vedervi parlare ora di arabi perché siete passati dal cappello da texano ad offenderci a parlare di arabi siete ridicoli non siete più credibili ormai siete bruciati io mi diverto a guardarvi siete bruciati ma a chi ma a chi ma ma chi la volete dare a bere avete fatto 47 nomi di aziende americane cordate italiane ma secondo voi siete credibili ora voi io io voglio sottolineare solamente una cosa mettetevi l'anima in pace un'altra cosa la data non la sa nessuno la data non la sa nessuno e io lo so per certo io so perché la data non la sa nessuno perché loro non dicono niente a nessuno non lo dicono a nessuno la sapranno in tre persone tutto il mondo quattro la data di quando entreranno e di quando sarà ufficiale non la sa nessuno chi vi dice ti do la data ti do quello ti da l'altro è una cazzata la data non la sa nessuno e quando poi verrà tutto fuori e ve lo dirà una persona che verrà su questo canale che vi dirà che la data non la sapeva non la sapeva nessuno vedrete perché non la sapeva nessuno la data io ve lo dirò mettetevi l'anima in pace mettete l'anima in pace non voglio le scuse di nessuno però guarda ti voglio dare un altro consiglio perché a me capito quando poi non c'è più nemmeno non c'è più nemmeno soddisfazione sparare contro la croce rossa non mi piace mettetevi l'anima in pace qualcuno in maniera intelligente ha già incominciato a tornare indietro qualcuno è a molto share non faccio nomi anzi più di uno gente comunque a cervello basta non li attacchiamo più perché questi hanno ragione poi dopo sono cazzi amari detto in francese è sempre la stessa versione aziende mena nome di pifo non te l'ho più fatto da otto mesi giusto pifo no nome di pifo chi ti fa il nome di pifo sbaglia non è pifo perché poi tanto anche le aziende mena gli investimenti eh i fondi sovrani a capo c'è sempre uno solo ed è inutile fare il nome ciao vittorio